nei confronti dell'attualità e dell'immediato futuro. A quei film arrivò una risposta, una risposta forte da parte incredibile ma vero, dai fumetti, l'esplosione dei supereroi, a cominciare da Superman, i supereroi, destinati a ridare serenità, pace, tranquillità, fiducia al genere umano. Sono due fenomeni contrastanti, ma una cosa va detta nel periodo dei mostri. Non inizia col cinema degli anni 20 del Novecento. Inizia un po' prima e divene per un certo verso strumento utile durante il regime nazista. Ha la stessa propaganda nazista per portare avanti i propri scopi a livello ideologico. Oggi parliamo proprio di questo, parliamo di un tema che potrebbe essere definito i mostri del nazismo, i mostri di Hitler. Sulla passione del regime nazista, dei suoi gerarchi per tutto ciò che è soprannaturale, ne sono state dette iscritte di tutti i colori. C'è la società di Ture, di cui ci siamo già occupati in passato, c'è la mistica nazista delle SS, la Anne Nerve, gli abbiamo dedicato un video. Ci sono gli esperimenti folli, le spedizioni sull'Himalaya o alla ricerca delle reliquie, le spedizioni per ricercare l'oro dei catari. Insomma, chi più le ha, più le metta. Ma quello che veramente fa specie in tutto ciò è il fatto che il nazismo abbia pescato a piene mani, tanto in una ideologia nata durante il periodo romantico, quanto nell'iconografia generata da questa ideologia. L'ideologia alla base è quella Völkisch, un'ideologia che nasce a metà Ottocento come evoluzione, in senso populista, del movimento romantico. Il movimento romantico accompagna la fase risorgimentale italiana, ma non solo, perché l'Italia non è l'unico stato in divenire nell'Ottocento. C'è anche la Germania, che all'epoca è un insieme molto interogeneo, è abbastanza scollegato, di staterelli indipendenti. Il più forte militarmente ed economicamente di questi, la Prussia, si farà autore di una unificazione tedesca che si compirà dopo la vittoria sul secondo impero francese, Sedan 1870. Come in Italia il regno di Sardegna si fa promotore dell'unità italiana, annettendo gli stati preunitari, a volte con semplici mosse politiche, altre volte con referendum, in altri casi con azioni militari. Lo stesso avviene in pratica in Germania, dove la guida prussiana identifica una sorta di movimento di riscossa del popolo tedesco che acquisisce una piena coscienza di nazione, nazione fino a quel momento, come si diceva, frammentata e trova anche nel movimento romatico una ragione di esistenza. Sono tanti gli scrittori romatici del periodo e sono scrittori che scavano nel profondo delle tradizioni tedesche. Pensate alla saga del Nibelunco, messa in musica anni dopo da Wagner. È una saga di origine norrena, trapiantata in Germania con la leggenda dell'oro del Reno e che riporta la luce antiche deità del nord con il desiderio dell'uomo di diventare perfetto. Ma non c'è solo questo, c'è anche la ricerca del nemico, perché in ogni movimento romantico c'è il lato appunto romantico dei romances inglesi, c'è il lato eroico, c'è il lato tragico, ma c'è anche il nemico, l'avversario, colui quale tenta in ogni modo di sbarrare la strada all'eroe del racconto. Il movimento fölkisch che si afferma nella seconda metà dell'Ottocento in Germania, identifica tutto ciò in determinate categorie e l'iconografia del movimento fölkisch colpisce l'immaginazione, perché negli scritti, nei pamphlet, soprattutto nei libretti illustrati che iniziano a diffondersi negli ultimi anni dell'Ottocento in Germania, i nemici del movimento popolare fölkisch, fölkisch d'altronde deriva da folk, che è il popolo. In quei libretti il nemico viene rappresentato in maniera pauroso e disgustosa, enormi ratti portatori della peste, vampiri che succhiano il sangue della società, mostri che rapiscono e divorano bambini. Nasce tutto lì. Il movimento fölkisch che si afferma come movimento inizialmente popolare, poi populista, infine nazionalista, si propone di difendere le radici germaniche da tutto ciò che le potrebbe corrompere e trova sempre più nemici da affrontare. Mano a mano che l'ideologia fölkisch progredisce, il primo nemico è sempre quello, l'ebreo, che viene spesso e volentieri raffigurato come un vampiro. Perché il vampiro? Perché è oscuro, colpisce di notte, succhia il sangue delle proprie vittime, in questo caso non del singolo contadino tedesco quanto della società tedesca. È un mostro soprannaturale ed è l'avversario per eccellenza. Ma il movimento fölkisch propone anche degli eroi alternativi che, secondo una certa iconografia, potrebbero risultare mostruosi, ma nell'idea fölkisch non lo sono. Prendete i lupi mannari. Ne abbiamo parlato all'inizio del video dedicato al Werwolf. Werwolf è la parola tedesca per lupo mannaro. Ma se il lupo mannaro di Hollywood è un uomo morso da un lupo che nelle notti di lunapieda si trasforma in un enorme lupo antropomorfo che va a caccia di vittime, nel fölkisch è tutto il contrario. Il lupo mannaro è un eroe popolare che, nel periodo dei regni teutoni sul Baltico, di fronte all'avanzata del nemico del popolo tedesco e alle difficoltà dei cavalieri teutoni, interviene come una sorta di partigiano antelitteram che colpisce i nemici del popolo di notte, lasciando solo tracce di lupo nella neve. Da qui nasce quella dicotomia, quella sorta di inimicizia perenne tra mostri tra il vampiro, visto con un'accezione esclusivamente negativa, e il lupo mannaro, visto in questo caso una chiave positiva di lettura, una chiave non di mostruosità ma di soprannaturalità al servizio della collettività, della società. Non ci si ferma però a questo. Il movimento Volkisch, tra gli anni antecedenti della Grande Guerra e quelli immediatamente successivi, si fa interprete di quel nazionalismo sempre più esasperato, quel nazionalismo che porterà alla Grande Guerra, alla scelta del Kaiser Guglielmo di rompere i vincoli di sangue con i propri cugini, re Giorgio V di Nisderra, lo zar Nicola II di tutte le russie. Il movimento Volkisch si propone come una sorta di alternativa nazionalista alla lotta per la mantenimento anticipazione del proletariato teorizzata da Karl Marx e come metodo per irrobustire la società, o in quel caso anche la corona dell'impero tedesco. Non è esattamente un movimento socialista quello Volkisch, perché non tutela il lavoratore Tukur. Anzi è un movimento misto, un movimento che mescola romanticismo, nazionalismo e esoterismo, non tanto nella semplice riconduzione animalesca dei propri eroi e dei propri nemici, come abbiamo visto poc'anzi. Viene reintrodotto il culto pagano delle vecchie deità del nord, pensiamo a Odino, Thor. Sono delle divinità che vengono riscoperte dal movimento Volkisch nel tentativo di creare una alternativa al cattolicesimo del sud, quello bavarese, quello austriaco e al protestantesimo del cuore della Germania. C'è molto di più. C'è anche il tentativo di creare qualcosa che sia completamente alternativo e superiore, tanto all'ebraismo, che ha una forte radice esoterica nella Kabbalah, quanto alla massoneria, che si è affermata a partire dal Settecento propagandosi dall'Inghilterra, come metodo di confronto fra classi sociali, attraverso la simbologia. Il movimento Volkisch si propone come terza via e soprattutto come nemico tanto degli ebrei quanto dei massoni, ritenuti entrambi mostri destinati a erodere le radici culturali tedesche o addirittura a distruggere la società tedesca, a corromperla dall'interno. Il movimento Volkisch, a poco a poco, dopo la fine della Grande Guerra, con il grande caos che pervade la Germania dal 1918 al 1920, inizia a trovare uno sfogo all'interno del partito nazista. È una valvola di sfogo, una valvola di comunicazione, di idee, di teorie, spesso balzane, che però affascina gran parte dell'etablissement nazista. Alcuni futuri gerarchi, Rosenberg, Goebbels, partecipano alle riunioni della società di Tule, in cui le ideologie Volkisch sono molto presenti, anzi vengono esasperate in senso occultistico. Le teorie Volkisch tornano anche all'interno dello stesso dibercolo che Adolf Hitler detta a Rudolf Hess in carcere dopo il processo e la condanna per il puccio della birreria. Nel Mein Kampf si ritrova parte del tessuto pregno di significato proprio del romanticismo nazionalista. Lo stesso Hitler scrive che le idee fondamentali del movimento nazionalsocialista sono populiste, cioè Volkisch, e le idee populiste sono nazionalsocialiste. È un completo travaso di idee, per non dire un plaggio, che Hitler compie attingendo a piene mani a quello che era un bagaglio pseudo-culturale, generato da una degenerazione, scusate il gioco di parole, del romanticismo tedesco. Lo stesso Hitler, quando era a Vienna, era rimasto affascinato dalle teorie Volkisch e dai sermoni tenuti da diversi predicatori antisemiti e nazionalisti. Sermoni che, a rileggerli oggi, sono un manifesto Volkisch, la necessità di creare un'unica grande patria tedesca, di creare la coscienza del popolo tedesco e di combattere i nemici del Volkisch, a cominciare proprio dagli ebrei. È da ciò che arriva il nazismo. È da queste radici malate che propagano la mala pianta nazista. Certo, ci sono anche altre propagazioni. Pensiamo appunto alla società di Tule, che ha vita breve e ingloriosa. D'altronde, le finalità della Tule, che sono in pratica di riscoprire attraverso la magia e l'occultismo le radici tedesche, vengono piegate in parte alle esigenze del nascente dominio nazista e poi cancellate, perché ritenute solo delle favolette da bambini. Ma nel regime, i lasciti del Volkisch restano. Le vignette di Der Stürmer, il giornale antisemita, ritraggono gli ebrei come topi che portano la peste o come vampiri che cercano di aggredire i piccoli innocenti bambini della campagna tedesca. Sono tutte ideologie travasate a piene mani dal Volkisch. In quel periodo, 1920-1930, come dicevamo all'inizio, il cinema è pervaso da pellicole mostruose. Il cinema espressionista porta sullo schermo non solo Metropolis, ma anche Murnau, con No Speratu das Vampire, o Robert Dine, con il suo celebre Das Kabinet der Dr. Caligari, non Caligaris come lo rende in parodia il Fantozzi di Paolo Villaggio. Sono film che denunciano l'esistenza di mostri, mostri soprannaturali o mostri celati della società, che la società deve temere e combattere. Sono pellicole non veramente naziste, ma che prendono a prestito degli elementi del Volkisch per alimentare la paura e sfruttare il sentimento di smarrimento dello spettatore, che ovviamente è membro di quella società che non sa dove sta andando e non sa cosa le riserverà il domani. Pensateci, qual è la cura al Volkisch e alle sue deviazioni, anche cinematografiche? Come si diceva all'inizio, sono i supereroi. Superman, che è in pratica la rappresentazione del migrante, che arriva orfano di padre e madre, addirittura di una madrepatria, e trova un nuovo luogo in cui crescere, maturare, diventare una persona e aiutare i più deboli. Batman, che perde i genitori e che da quel momento si dedica alla lotta contro il crimine, anche contro gli esseri soprannaturali. Successivamente, e per un'altra casa editrice, arriverà Captain America, che combatte proprio i mostri nazisti, a cominciare dal teschio rosso. Non è un caso che ai mostri generati dal Volkisch e poi ripresi e sfruttati dal nazismo si risponda con qualcosa che non stimoli più la paura ma la speranza, qualcosa che non dia più una sensazione di terrore incontrollabile che punti a pungolare la rabbia di fondo, ma ci sia una risposta possibile, umana e pacifica. Sono due opposte visioni. Sappiamo come le vinceranno. Quella dei supereroi, che alla fine sui campi di battaglia non avranno lo scudo colorato di Captain America, o il mantello rosso di Superman, o la cintura multi-gadget di Batman, ma saranno ugualmente efficaci. Anzi, forse anche di più. Quanto i mostri del nazismo resteranno nell'immaginario collettivo, ma si tramuteranno. Dei mostri poi portati alla sbarra a Norimberga. Mostri delle fattezze umane e incredibilmente normali, come avrebbe scritto molti anni dopo Hannah Arendt per il processo a Genusalemme contro Adolf Eichmann. Il male aveva una sua banalità. Nel volto quasi anonimo, quasi da contabile di Eichmann, ci si aspettava un mostro riconoscibile per la strada, additabile a distanza, riconoscibile da tutti. Invece Eichmann era uguale agli altri. E uguale agli altri erano anche gli altri mostri nazisti, che avevano fatto ricorso ad altre mostruosità, quelle dell'iconografia, per suggestionare la popolazione e convincerla che il nazismo fosse l'unica cura contro tali mostruosità. Per fortuna abbiamo capito che così non era. Per fortuna abbiamo capito che le suggestioni pericolose, i mostri creati dal Feuilkisch e poi cavalcati dal nazismo, possono essere relegati alle paure da cinema e non oltre. Cinema che poi avrà ulteriore materiale e anche così la scrittura e i fumetti, ma che troverà sempre delle risposte. Ecco, in chiusura di questo video vi segnalo, se non l'avete ancora fatto, un creatore di fumetti che un po' di anni fa ha creato un personaggio molto interessante. Il ragazzo diavolo, Hellboy, il diavolo piovuto sulla terra per portare distruzione, ma che viene convertito alla causa del bene. Lui stesso ricerca una sua umanità, pur venendo spesso rifiutato dagli altri, che combatte cosa? I mostri. La prima ancora dei mostri in sé, le mostruosità insiten in chi vuole compiere il male, dal redivivo Rasputin fino alla testa invaso von Klent, ma anche i vampiri, che in questo caso non sono assolutamente ebrei, ma sono quelli della tradizione rumena. In tutto ciò, Hellboy viene aiutato da amici che potrebbero essere definiti mostruosi. Pensiamo a Abe Sapien, l'uomo pesce, o a Roger, un homunculus del medioevo, che viene risvegliato improvvisamente da un lungo show. È la dimostrazione che l'umanità, ciò che noi chiamiamo umanità, va ben oltre le semplici fattezze, le forme fisiche. È un concetto, è un concetto da compenetrare e da capire, perché anche il più brutto, il più mostruoso, essere vivente può avere un bagliore di umanità. E anche il più aderente, essere vivente alle fattezze estetiche esteriori alla razza umana, può essere intimamente un pericolisissimo mostro. Grazie.